Ricordiamo una cosa, sono tipologie diverse di curiosità, andare a cui raccogliere l'attenzione abbiamo in varietà, per esempio Paolo, poi il giovanissimo in alto, ma anche i cartoni animati ma c'erano anche negli sport didattici, o didattici, sui piloni albergo a mangi Ricordate, un anima che insegnava l'entere in televisione, il suo gran Mauro e Mario Ricordate, su questi comuni cantari, ha pensato a quattro sport che insegnavano un marco gioco.